Se riscontrate problemi riguardo al gioco Hunt Showdown 1896 e se avete problemi proprio anche con l'anti cheat all'avvio del gioco, in questo caso possono essere i driver obsoleti sul tuo computer oppure il gioco non parte proprio perché c'è qualcosa nella sua cartella che lo impedisce oppure Windows Defender o l'antivirus hanno bloccato così alcuni file. Quindi in questo caso prima di andare a procedere un attimo sul Windows Defender andiamo un attimo sui link che ti ho lasciato in descrizione per scaricare così questi driver. Quindi in questo caso passiamo prima al driver Visual Studio ed eccolo qua dal 2015 fino al 2022. Andiamo così a scaricare l'ARM64 per 86 e per 64, tutte le architetture. Ovviamente faremo ogni singolo passo con tutti i driver, soprattutto anche con AMD e Nvidia. Quindi andiamo così a prendere questi 3 driver che abbiamo scaricato ed eseguiamoli come amministratore. Accettiamo così il contratto e lo installiamo. Ripristino perché questo qua è già stato installato, quindi l'ho installato già sul mio computer. Faccio la stessa cosa anche con questo. Questo non è sopportato dal tipo di processore e faccio chiudi. Mentre sta installando così questo Microsoft Visual C++ andiamo così a scaricare e installare il Web Installer DirectX and User Runtime. Tutto in descrizione e faccio scarica. Accetto il contratto, non installo questo e faccio fine. Mentre sta ancora scaricando e installando il Microsoft Visual C++ passiamo al terzo passaggio, DirectX SDK e faccio scarica. Per vedere se il tuo computer supporta così questa versione che può servire al gioco. Se il mio computer non supporta questa versione qua vuol dire che supporta più questa qua di DirectX Web Installer. Una volta scaricati i driver puoi anche cancellarli, quindi una volta scaricati e installati li puoi cancellare. Come dice di riavviare il computer lo faccio più tardi. Se non ti da così questo errore vuol dire che tu puoi sopportare così in questo driver qua il tuo computer. E quindi stai messo bene, io faccio fine e posso anche cancellare questo driver qua. Una volta fatto passiamo direttamente ai driver NVIDIA e AMD. Per NVIDIA c'è il programma NVIDIA App dove tu puoi scaricare e installare gli aggiornamenti e fare anche delle modifiche direttamente sulla grafica. Quindi scarica la beta, la installi, andiamo su NVIDIA, vado su grafica, qui dove puoi modificare così i driver, già puoi modificare così le impostazioni grafiche sul gioco. E qui ci sono i driver, come puoi vedere ci sono alcuni driver proprio sul gioco Ant Showdown 1896. E aggiorna qua, cerca aggiornamento e vedi se devi fare qualche aggiornamento. Driver Studio, stessa cosa. Un aggiornamento del 6 agosto. E qui puoi scaricarli e installarli. Per AMD invece c'è AMD Software, Adrenaline Edition, quindi è la stessa cosa di NVIDIA. Scarica il software, lo installi e poi vedi se devi fare qualche aggiornamento sui driver. Oppure lo puoi scaricare qui manualmente. Cerchi così il tuo prodotto, vai avanti, processori, grafica, è tutto. Vai avanti, scarichi e installi così il tuo driver. Dibustazioni. Proprietà, file installati, sfoglie file locali. Ed ecco l'easy anti cheat. Se non dovesse funzionare, clicchiamo così il risente cheat del gioco. Quindi il risente cheat sul gioco funziona. Si sta anche avviando il gioco. Qui dice che l'easy anti cheat può cercare una selezione, quindi chiudiamo un attimo il gioco. Facciamo esci. Easy anti cheat. Cancella così la cartella dell'easy anti cheat. E cancella pure anto.exe. E facciamo la verifica integrità dei file del gioco. I file sono stati comparitati e verranno riscaricati. Prima di avviare il gioco andiamo un attimo su Windows Defender. Protezione da virus e minacce. Gestisci impostazioni. Scendi fino a giù fino a trovare esclusione. Raggiungi un'esclusione e metti la cartella. E metti la cartella del gioco. Steam. Steam Maps. Com. Quindi fino a giù fino a trovare il gioco, la cartella del gioco. E fai selezionare la cartella. Ed eccola qua. Chiudi. E ora non ci resta che avviare il gioco. E il gioco si è aperto. Quindi il gioco funziona perfettamente senza nessun problema risolvendo l'errore dell'anti-cheat rimuovendolo facendo un ripristino e aggiornando tutti i driver il tuo computer siamo riusciti così a risolvere il problema all'avvio del gioco. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.